ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video un video che non era in programma tra i 10.000 video che devo fare ma è capitato così perché un cliente anzi una cliente il negozio mi ha richiesto di preparare un prodotto una signora molto tecnologica che ha una power station un bluetti ac200 max power station che ha un solo ingresso di stringa quindi si può arrivare con una sola serie di pannelli cliente che esigenza aveva aveva l'esigenza di gestire dei pannelli montati su un balcone a ovest e dei pannelli montati su un altro balcone a est e quindi mi ha detto massima tu non riesci a farmi un sistema magari con un orologio per switchare tra una stringa e l'altra in modo automatico ad una certa ora ho fatto due più due detto ma sì senza problemi mettiamo un teleruttore un contattore mettiamo un orologio che poi più avanti vi spiegherò meglio anche le tipologie e lo facciamo senza problemi quindi il video di oggi è un tutorial vi chiedo scusa per la qualità magari delle immagini dell'audio eccetera perché quando giro i video in negozio dove faccio le lavorazioni e non sono proprio preparato come in studio a casa i risultati magari sono di qualità un po più bassa ma spero di riuscire comunque a farvi vedere tutto il procedimento come si deve cosa ci serve per fare questo sistema e che cos'è questo sistema sarà sostanzialmente un quadro elettrico dove arriviamo con i cavi di due stringhe quindi con il più e meno di una serie di pannelli o anche solo un pannello da una parte un più e meno di un'altra stringa un'altra serie o un singolo pannello dall'altra per switchare in automatico ad una certa ora in questo video cosa ci occorre ci occorre un quadro e vi consiglio un 8 moduli per lavorare un po meglio con gli spazi e soprattutto il cavo fotovoltaico se usate quello ad esempio da 4 che è un po duro poi ci serve un contattore ho scelto lo stesso che avevamo usato nel video del bluetti ac 300 che avevo a casa il contattore deve essere sostanzialmente un 2na più 2nc ossia deve avere due contatti quindi in questo caso per una stringa più e meno sempre chiusi o meglio normalmente chiusi quando questo contattore viene alimentato switcha e mi fa passare diciamo la comunicazione la stringa che è la seconda tra i due contatti normalmente aperti come un debiatore uno switch ok che commuta tra un polo e un altro ma è doppio perché la stringa a più e meno più e meno questo contattore deve avere la bobina a 230 volt poi ci serve un orologio nel video vi farò vedere un orologio banalissimo giornaliero meccanico che sono quelli da tirare su i cavalieri tipo i termostati ma nulla vieta di mettere un orologio un po più complesso magari col display digitale che però tendenzialmente più difficile da usare ma soprattutto potete farlo anche smart mettendo al posto dell'orologio un semplicissimo sonoff mini normalissimo quindi lo alimentiamo fase neutro usciamo con la fase esattamente come esce dall'orologio meccanico che vi farò vedere nel video facciamo la stessa cosa ma abbiamo un controllo smart possiamo cambiare le programmazioni senza mettere mani al quadro siamo ad un livello superiore poi servono dei pg dei passacavo per far passare i cavi delle stringhe in ingresso in uscita è un pg un po più grosso per il cavo del 230 volt in questo caso il cliente ha voluto un kit fai da te pronto all'uso plug and play quindi realizzerò un ingresso stringa doppio con i connettori mc4 un'uscita che va alla macchina con connettori mc4 e un cavo molto lungo con spina 230 volt in modo da piazzarlo all'occorrenza dove serve in teoria potrebbe essere anche portatile trovate tutto quello che serve nella descrizione del video ora vi faccio vedere un attimo il procedimento poi facciamo qualche prova dunque iniziamo con la foratura del quadro facendo quattro buchi per montare appunto 4 pg nell'ingresso io li ho disposti nella parte superiore ma nulla vieta di arrivare lateralmente o di arrivare direttamente con una tubazione o eventualmente esistono in commercio anche i connettori mc4 da pannello difficili da trovare in italia molto più facile trovarli ad esempio in dei siti cinesi in questo video sto usando una fresa gradini se non la conoscete vi lascio il link anche di quella nelle descrizioni perché è sempre utile per questi lavori ora fatti i quattro fori possiamo montare i quattro pg ho deciso di metterli singoli anche se è un posto all'interno dove non abbiamo bisogno della tenuta stagna se magari volete usarli più grossi e far entrare due cavi in un solo pg non è tecnicamente corretto ma se non abbiamo problemi di umidità e polvere di fatto il problema non c'è questo risultato che otterrete quattro sopra in questo caso due sotto e uno più grosso di uscita ora mi preparo gli spezzogli di cavo positivo e negativo con del cavo fotovoltaico 4 mm usando i connettori mc4 ma non è assolutamente necessario questo è stato fatto solo per renderlo plug and play voi potete entrare con i cavi direttamente nel contattore e uscire direttamente col cavo in morsettiera se invece volete fare nello stesso modo e non sapete come realizzare i cavi e come crimpare i connettori mc4 nel video della stringa da un kilowatt su pensilina ho fatto vedere come si mettono i cavi nei connettori mc4 ma l'ho fatto vedere anche in altri video oppure vi ricordo che dal nostro fornitore io solar vendono i connettori wade muller che non hanno bisogno di nessuno strumento e l'avevo fatto vedere nel video del kit del fotovoltaico 800 watt da balcone perfetto questo è l'ingresso quindi una stringa che entra nei due laterali e una stringa che entra nei due centrali i cavi sono molto spessi difficile manovrare ma comunque dovreste riuscire a replicare lo stesso intervento una volta posizionato il contattore in zona barradin possiamo sistemare i cavi procedere al fissaggio dei pg per riuscire ad incastrare il contattore sulla barradin ok fatto questo prendiamo un normalissimo orologio da barradin questo è un orologio giornaliero come funziona c'è questo orologio che gira vedete che c'è quella piccola tacchetta punta quella va messa sull'ora attuale e poi ci sono tutti questi cavalieri questi ponticelli che quando vengono tirati su o tirati giù attivano in quelle ore l'uscita dell'orologio l'uscita dell'orologio cosa fa questo orologio va alimentato tramite fase neutro che sono questi due morsetti qui in questo caso sono segnati va a chiudere questo contatto quindi noi questo contatto lo utilizzeremo per mandare la fase in a1 o in a2 è uguale per attivare il nostro contattore che farà lo scambio da una stringa all'altra in uscita verso i due cavi principali come si collega l'orologio io adesso faccio passare qui dal passacavo un cavo 3 per 1 e mezzo tolgo la guaina fino a una certa lunghezza in questo caso la terra non la useremo per sicurezza la nastriamo così da non essere un pericolo all'interno del quadro noi abbiamo bisogno del neutro in uscita che andrà anche alla bobina e di una fase ponticellata che andrà al nostro contatto peliamo la fase la speriamo anche su un altro pezzo di filo qui va benissimo lavorare con l'1 e mezzo giusto per farli stare fermi gli do solo una leggera nastrata in questo caso possiamo anche arrotolarli un po male non fa e accorciamo e questi vanno nell'ingresso di fase chiudiamo il morsetto questa fase va ponticellata con il contatto il morsetto subito accanto in questo modo abbiamo dato la fase diretta e la fase per il contatto poi avremo bisogno di mettere il neutro diretto in morsettiera per l'orologio da mandare anche all'altro polo della bobina anche questo per sicurezza gli mettiamo giusto un pezzettino di nastro e va nel morsetto neutro ok qua più o meno abbiamo finito attacchiamo solo la fase che andrà all'altro polo del contattore della bobina questo contatto qui sopra fase neutro sono questi due morsetti di lato perché sono segnati come linea e neutro questi due sono quelli dove verrà chiuso il contatto quando usate un orologio il contatto può servire per una fase per un neutro per un 12 volte per qualsiasi altra cosa perché un contatto isolato da questi infatti noi per farlo lavorare di fase abbiamo dovuto fare il ponticello per avere la fase in uscita mettiamo l'orologio al suo posto una cosa del genere ora che il cavo non dà più fastidio chiudiamo anche questo pg in modo che non si muova cosa dobbiamo fare dobbiamo collegare il neutro sul morsetto a 1 ma poteva anche essere a 2 non cambiava niente lo tagliamo a misura lo speriamo e lo mettiamo nel morsetto a 1 quindi il neutro diretto l'abbiamo dato ora prendiamo la fase in uscita dal nostro contatto anche lei gli diamo una sistemata la portiamo in zona a 2 e la infiliamo nel morsetto a 2 ok abbiamo finito cosa abbiamo ottenuto abbiamo una stringa in ingresso sui contatti normalmente chiusi che sono quelli esterni che sono normalmente chiusi con questi due in linea sono tutti e quattro in linea ok in uscita abbiamo un ponticellato perché che la tensione arrivi dal contatto normalmente chiuso o da quello aperto che viene chiuso quando eccitiamo la bobina abbiamo fatto i ponticelli l'altra stringa entra nei due centrali che sono enormemente aperti che escono su 2 e 4 quando è che avviene questo switch il neutro è sempre diretto su a 1 quando gli arriva la fase su a 2 la fase su a 2 viene gestita direttamente dall'orologio lo so che qualcuno di voi magari non ha capito niente quindi ora come facciamo di solito in questi casi nei tutorial quelli un po più delicati vi faccio vedere uno schema a banco chiaro chiaro in modo da replicare esattamente quello che ho fatto io se giustamente non siete pratici schema semplice semplice per capire cosa ho combinato dunque nel contattore abbiamo i due esterni che sono normalmente chiusi i due interni che sono normalmente aperti quando viene alimentato i due esterni si aprono i due interni si chiudono pv1 passa in questo lato di sinistra pv1 negativo in questo di destra e invece il pv2 passa nei due centrali che in uscita saranno ponticellati perché fa lo switch e andiamo via col più il meno la macchina questo contattore a 230 volt ha la bobina con morsetti a 1 e a 2 sono indifferenti l'importante che su uno arrivi il neutro su uno arrivi la fase neutro che arriva direttamente dallo stesso neutro che portiamo sul morsetto neutro dell'orologio fase che invece arriva in uscita dal contatto contatto che a sua volta per portare la fase su questo morsetto quando scatta l'orologio va ponticellata con la fase in ingresso semplicissimo ma in questo modo magari lo capite meglio come avremmo integrato un sonoff mini al posto dell'orologio semplicemente portavamo sempre il neutro e la fase per alimentarlo non abbiamo bisogno di fare il ponticello perché lui dà già la fase in uscita sul morsetto l out che noi avremmo mandato su a 2 mentre il neutro diretto potevamo prenderlo dallo stesso filo o usare il morsetto neutro di appoggio secondo che ci viene ancora più comodo ora preparo il cavo in uscita gli metto una spina perché il cliente l'ha chiesto lungo 10 metri e poi facciamo due prove per fare la prova alimenterò una stringa 12 una stringa 24 mettiamo un tester in uscita così vediamo quando avviene lo switch cosa succede ok quindi che cosa ho fatto ho messo due alimentatori un 12 un 24 collegati alle stringhe in ingresso se io vado a misurare sulla prima stringa quindi due esterni vedete che ho 14 volt se misuro i due interni ho 24 volte perché ho messo un alimentatore a 24 e una 12 poi prendo le due uscite questa del positivo e questa del negativo che cosa misuro in uscita sui due cavi misuro 14 volte perché in questo momento stanno lavorando i due contatti esterni i normalmente chiusi che vanno in linea con r1 ed r4 nel momento in cui si attiva il contattore per merito dell'orologio succede quello che faccio simulare io adesso switchando lui si attiva vedete che l'uscita diventa 24 perché vengono aperti questi contatti laterali e vengono chiusi i centrali quindi col ponticello in esterno finiamo sempre sui due cavi in uscita e vedete che riusciamo a switchare tra un ingresso e l'altro la stessa cosa sarebbe successa tra un po nel momento in cui il cavallotto arrivava sull'ora programmata anzi facciamo che lasciarlo succedere così vediamo in diretta che da 14 diventa 24 ok è appena scattato chiaramente il contattore quando scatta fa un rumore tra l'altro questa finestrella segnala che è stato abilitato e vedete che la tensione è passata da 14 a 24 quindi questa stringa non è più collegata fisicamente all'uscita ma lo è diventata questa in questo momento di scambio non c'è mai un cortocircuito tra le due sezioni degli ingressi avremo semplicemente un distacco istantaneo della produzione sull'MPPT che riprenderà appena il valore si modifica passando la seconda stringa niente di più semplice nessun problema funziona regolarmente questo è il funzionamento semplicissimo di uno scambiatore di stringa tra la prima e la seconda togliamo il tester togliamo gli alimentatori il nostro quadretto è bello che finito ok adesso il quadro è da chiudere quindi dobbiamo allargare un po la finestra togliamo no non la togliamo una tacchetta di qua lo stringiamo un pelino vediamo di farlo entrare dobbiamo spostare tutto un pelino a destra in modo da riuscire a mettere le quattro viti chiudiamo la fessura mettendo un coperchio per la lunghezza di un modulo diamo una pulita anche qua la bavetta incastriamo il nostro coperchietto scriviamo ingresso pv1 ingresso pv2 così non ci sbagliamo quella sotto chiaramente è un'uscita ok quindi uscita ingresso pv1 che quello riposo ingresso pv2 che quello quando l'orologio decide di far azionare il contattore ora l'orologio è ancora attivo chiaramente l'ora si può cambiare aprendo lo sportellino anche col quadro chiuso io ora stacco la corrente chiaramente senza la spina collegata il contattore comunque si disabilita se lo sentite leggermente caldo è normale perché dentro c'è un elettromagnete che quando è eccitato scalda ora faccio la programmazione che mi ha chiesto la signora ossia dalle 14 alle 23 quindi tiriamo su dalle 14 andiamo avanti fino alle 17 come era prima 18 19 20 21 22 ci fermiamo a 23 l'orologio ha una sua piccola batteria interna che anche senza corrente per un po' rimane alimentato ma non per molto ok facciamo un esempio pratico ad esempio con un bluetti ac 180 che ha un solo cavo d'ingresso con una coppia di mc4 l'abbiamo collegata al nostro quadro in questo momento sta caricando 36 watt perché gli sta arrivando una tensione bassa dall'alimentatore a 12 volt nel momento in cui io faccio lo switch adesso lo faccio in manuale senza usare l'orologio vedete che scatta il contattore si interrompe per un attimo la ricarica perché l'MPPT non sente più tensione poi adesso si riattiverà passando all'altra sorgente e vedete che il vattaggio cambia e sale perché in questo momento ad esempio ho switchato su un alimentatore a 24 volte vedete che lo switch funziona correttamente la macchina non patisce nulla perché come se staccassimo un attimo i pannelli per poi riattaccarli ora l'ultima prova che volevo fare era di verificare se il contattore funziona anche alimentando il quadretto direttamente da una power station così magari vediamo anche se riusciamo a leggere i consumi quindi accendiamo la power station mettiamo la spina attiviamo l'uscita c adesso non è attivata perché non è nell'erario corretto portiamolo in un orario dove sarebbe scattato tipo questo accendiamo il contattore ce la fa ad alimentarsi vedete che stacca quando si alimenta essendo un'uscita fase fase fa leggermente un piccolo sussulto quando lo stacchiamo invece va correttamente però comunque riesce a fare tranquillamente lo switch vi faccio sentire la differenza di attivazione rispetto al 230 vedete che è diretto mentre con l'uscita bifasica fa comunque l'attivazione ma tentenna un attimino bene siamo a fine video come ho detto all'inizio un tutorial improvvisato mi raccomando se avete domande non esitate a farmene nei commenti o mi scrivete all'assistenza un oggetto che secondo me può essere interessante per molti relativamente economico da realizzare ma molto molto utile se vi è piaciuto il video un bel like soprattutto iscrivetevi al canale che non costa nulla mi dareste un grosso supporto per rimanere sempre aggiornati con le mie passioni i miei lavori i miei tutorial i miei recensioni tutto quello che passa sul canale grazie a tutti ciao da massi dattoli grazie a tutti